Musica 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 Sì, 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 io li ammeno alla stazione, per andarci per provarci con male azione, e solo di questa scala, conoscere il tipo che ci vediamo e ci prepara, ma lui sono divertiti nella strada. Ok, avanza la musica DJ, ok, allora, alla mia sinistra, Cioti, fatemi sentire se volete che vinca Cioti! Ok, tu non devi approfondire se ne sopportare, ok, se volete che vinca Rocco, fatemi sentire! Eh, è pura, eh! E questo è un pari! Allora, facciamo un... Allora, facciamo un... Allora, facciamo DJ Link, il termine DJ Click, ok? Allora, DJ Link, va provati, inizia Rocco, vai, click, inizia! Allora, facciamo un... Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie!